Francesco Gavazzi secondo oggi al trofeo Laigüeglia, come è andata la volata intanto? La volata ero messo bene, ho trovato la ruota di Fellini che è partita lungo, purtroppo sono riuscito a uscire un po' tardi rispetto a Cimulai perché ero contro le transenne e quei metri che sono partiti in ritardo li ho pagati perché non rimonta ma non ce l'ho fatta più a passarlo. Le tue sensazioni durante la gara immaginiamo che erano buone, hai trovato una squadra con Finetto, c'era anche Belletti eventualmente? No, la squadra era compatta, andiamo tutti forti, Belletti ha vinto domenica, oggi ha dato una mano, Petacchi ha dato una mano, io, Finetto, Monsalve e Fabilli eravamo attivi nel finale, ho provato a dare una botta anche su Colle e Micheli perché ho visto che non c'era ancora tantissima selezione però era ancora lontano dal traguardo e è volata, è sempre un terno all'otto e è andata così. Le prossime gare? Magari dove hai parti? Lugano sicuramente il primo marzo, poi sarà Coppie e Bartoli e un po' tutto il calendario italiano fino al giro. Bocca al lupo! Previ! Previ!